Vai! Vai! Farina Federico, Salt Warrior 2015, box CrossFit Eknos, categoria Open. Allora, carico, piastra da 10, bilanciare da 20, piastra da 10, bilanciare da 20, wall ball. Allora, mat ball 9 kg, altezza 3,04 m, al centro della Sardegna, a Sardegna, poi questa è la sbarra per fare gesto barra, non ci siamo dimenticati niente. Ah, per il wall dei clean, 10 kg, 5 kg e 2,5 kg. Anche dall'altra parte, 10 kg, 5 kg, 2,5 kg, 2,5 kg. Perfetto. Perfetto. si Sì, c'è il countdown qua che dice 3, 2, 1. 3? Sì. Ti voglio quello calzato, ma è un po' di 15 mani anni. 3, 2, 1, go! Sì, bene, ti cambia. 3, 2, 1, go! 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 4, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 1, go! 3, 2, 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 go! 4, 2, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 5, 2, go! su, tira o su, bravo, così punta giù ok porta dai 3, 4, 7 3, 7 minuti e lì hai il punto metti le piastre riposati un po' riposati a meno 20 secondi fa a meno 10 ah, a meno 20 a meno 20 secondi fa, non lo dico io riposa, rispia di fiato, calmati e concentra stai capiamo, stai in basso stai in basso pronto? 5 3, 4, 3, 2, 1 basso e poi ti allungi verticale e vai sotto forza, basso dai bravo così ok, dai forza dai c'è un minuto dai c'è un minuto dai che cazzo è fumato dai cazzo è fumato pensa non puoi che facciare il concentrato bravo cazzo è lì, bravo Concentrato, adesso levo il volo, posso portare il volo, morbido, rilassato, vai. 20 secondi, quello che vuoi basta che dai tutto, stai attento a non fare l'oretto, non fare il calzato, 30 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, vai Federico. 5, 4, 3, 2, 1, vai Federico. 5, 4, 3, 2, 1, vai Federico. Dai che ce li hai, finisci i punti, non rompere le scappole. 5, 4, 3, 2, 1, vai Federico. 5, 4, 3, 2, 1, vai Federico. Forza, forza. Forza, 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 forza Federico, dai. Forza, tocca il petto, il petto. 1, 2, 2, 3, 1, vai Federico. 3, 2, 1, vai Federico. 5, 4, 3, 2, 1, vai Federico. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non perderlo! Bene, scilla di gande! Bravoli! Non perdere il tipico, scilla bene con le gambe! Porta a te, dai! Dai che c'è un bel giugno! 4, 2, 3, 4, bravo! Dai che stiamo andando bene! 5, bravo, così! Dai che c'è un minuto! Dai che c'è un minuto! A 1, 15, no? Sì! Perché... Sono a 4, più 4, 8, più 3! Dai, su, su, su! Vieni, vieni, vieni! Mi stanno andando a grande, dai! Dai! Dai, che pesi metti il tiri bagnato! Dai! Forza, 30 secondi! Forza! Forza! Dai! Vola! Bene con queste gambe! Ci! Dai, che ne hai! Ne hai, ne hai! 20 secondi ne hai! Via! Forza, dai! A 3, 3! Gambe! Gambe! Così, dai! A scendere, eh! A scendere! C'hai 10 secondi! Dai! A 3, 2! Almeno a 3! Via! 3! 1! 2! aswe! 1! 1! 2! Stai!!! Cazzo! 2! 1! 8! 1! Bravo! Ja возь! Brava! Bravissimo! Dai! Como se è stato un progetto? 2! Bam! Grazie.